Il viareggio è una squadra che per te rappresenta qualcosa di importante, ma al Pisa servono i tre punti. Sì, per me è una squadra importante perché io sono ardito con il viareggio due anni fa, sono stato con loro anche l'anno scorso, mi sono trovato benissimo pure con i miei ex compagni, però per chiudere bene questo giro di andata serve una vittoria. È un momento dove le cose non girano come dovrebbero, c'è anche un pizzico di sfortuna, vedi il palo di scia. Sì, abbiamo preso il gol dopo un minuto, è stata una bella mazzata, ma abbiamo reagito bene, siamo stati sfortunatissimi su quel palo dove la pala poteva anche entrare. Ora l'importante è vincere davanti ai nostri tifosi almeno nell'ultima partita dell'anno.